Gentili telespettatori, buona giornata. E così Bottura si inventa un tweet della Premier Meloni. E se lo inventa sembrerebbe proprio un fotomontaggio, un qualcosa, perché c'è scritto proprio Giorgia Meloni con la sua foto, profilo verificato, e la Meloni avrebbe scritto in questo tweet la tragedia di H. Larenzia non può essere pretesto per manifestazioni nostalgiche che una destra moderna rifugge con nettezza. La nazione è una democrazia, il governo si riconosce nella Costituzione e la difende da qualunque estremismo. Nessun fraintendimento è possibile. 140.000 visualizzazioni eccetera eccetera in poco tempo, ma sembrerebbe che questo messaggio della Meloni sia completamente falso. L'ultima di Luca Bottura, un finto tweet di Giorgia Meloni per ovviamente accusare il governo di contiguità con i partecipanti a questa manifestazione ricorrenza di H. Larenzia. Quindi Bottura dice che questo è il tweet che avrebbe dovuto fare la Meloni, ma fa capire insomma che non l'ha fatto perché è legata a questi ambienti e comunque questi ambienti votano per Fratelli d'Italia, pertanto andare a rimproverare questo gruppo numeroso di persone che era lì, mille persone, non 200-300 ma mille, vorrebbe dire probabilmente perdere in un colpo solo almeno mille voti. Questa è l'idea di Luca Bottura facendo il finto tweet di Meloni dicendo questo è quello che dovevi scrivere ma non lo hai scritto. E così lo scrittore e commentatore della stampa produce questa falsa notizia nella quale il capo del governo prende le distanze dai camerati. E' quello che vi ho letto prima, la tragedia di H. Larenzia non può essere pretesto per manifestazioni nostalgiche che una destra moderna rifugge con nettezza, la nazione è una democrazia, il governo si riconosce nella Costituzione la difende da qualunque estremismo, nessun fraintendimento è possibile. Ecco, e poi lui stesso commenta il suo finto post della Meloni scrivendo finalmente grazie Giorgia Meloni. Ma è tutto, ma è tutto falso e così ci sono polemiche sul fatto che non solo tramite l'intelligenza artificiale tu fai dire delle cose a persone che nel video sembrano quelle reali. Ecco, adesso l'intelligenza artificiale passa anche dalla creazione di tweet che sembrano assolutamente reali, perché se voi guardate questo tweet, come vi dicevo c'è la foto della Meloni, Giorgia Meloni, verificato, chiocciola, Giorgia Meloni tutto attaccato, sembra proprio un tweet fatto dal profilo ufficiale della Meloni. Pertanto oggi con il computer si riesce ormai a falsificare qualsiasi cosa, si riescono a far dire, ho visto un video falso su Tom Cruise, delle fotografie, delle fotografie false col Papa con un giubbotto bianco da sci, oppure delle fotografie su Trump che sembrano assolutamente vere perché sono dei falsi clamorosi ma tu non riesci a distinguere il vero dal falso se non c'è qualcuno che ti dice guarda che quella fotografia lì è falsa, guarda che quel video lì è falso, guarda che quel tweet lì è falso. Voi se leggete questo tweet falso di Giorgia Meloni lo prendete assolutamente per vero perché è fatto tutto perfettamente identico a un tweet originale che potrebbe essere della Premier. Oggi così siamo in balia a notizie false che girano e poi con il rischio che molte notizie false girando e girando trovino una verità che non esiste, nel senso che diventano magicamente vere, guarda cosa ha scritto questo, guarda cosa ha detto quell'altro. E così ci sono foto del Papa col giubbotto bianco che girano in rete e poi diventano delle realtà. Era successo con Macron dove c'era un video falso di Macron che diceva qualcosa contro qualcuno, questo video falso gira e gira e gira, alla fine il web facendo girare questo video falso di Macron aveva poi creato questa falsa notizia che era diventata una notizia vera, cioè la notizia falsa diventa con il web poi una notizia vera, cioè circolando e circolando il web la legittima, la fa diventare vera, più circola e più diventa vera e meno falsa, perché continuando a passare da profilo in profilo è un po' come se fosse il riciclaggio di denaro sporco. Tu prendi denaro che proviene dalla criminalità e lo pulisci facendolo passare tramite delle operazioni societarie, il famoso passaggio per pulire il denaro che proviene dalla criminalità. Qui un po' la tecnica è lo stesso, tu fai un video falso, lo fai girare in rete, passa da Facebook, da Instagram, da tanta gente che in buona fede crede che sia vero, quel video, quella foto, quel tweet e poi magicamente dopo un po' che gira diventa una verità, una verità difficilmente poi cancellabile dal web, perché ormai girando e girando una gran parte delle persone crede che sia assolutamente vero, quel video falso di Macron, quel tweet falso della Meloni, quella foto falsa del Papa, quel video falso di Tom Cruise, col tempo vanno insieme alle cose vere e diventa anche quella una verità, una verità falsa, legittimata dal web. Quindi fare dei tweet falsi, dei video falsi su una persona, dovrebbe andare incontro, anzi sicuramente va incontro alla diffamazione a mezzo stampa, io direi anche aggravata, perché se tu proprio architetti tutto, costruisci la notizia falsa e la spargi in rete, devi essere portato in tribunale e poi non puoi dire ma io sono un comico, io sono un satiro, io l'ho fatto così per divertimento. E no, si chiama diffamazione. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie e buona giornata.